Salve ragazzi e benvenuti in un nuovo video! Oggi sono su Dragon Ball Z Budokite & KC3 per mostrarvi il personaggio più potente di tutti. Aspettate, prima che mi chiediate Fieric come faccio a scaricare la ROM, come faccio a scaricare l'emulatore, eccetera, andate a vedere un altro video su YouTube come feci io quando dovete scaricare questo, voi andate in un altro video a cercare come scaricarlo, se volete farlo. Andiamo subito al duello, vi faccio subito vedere che la difficoltà è quella più alta, vedete? Very strong, farò un 1 vs 5 con il mio amato Girbai e contro... che cazzo? No, basta, end. Contro, ce ne andiamo a infilare, 5 scimmioni. Allora, Bardak. Dopodiché, Bardak, cioè Radish, poi ci infiliamo Nappa, beh, qua, pelato di merda. Non che abbia nulla contro i pelati, eh, no, che poi mi... Fieric, sei razzista contro i pelati, cazzo, gli sfotti. Poi, chi cazzo c'è altro di scimione pure? Ray Vegeta, forse, sì. Ray Vegeta. Great Ape. Perché ce l'hai in inglese? Perché non riesco a mettere l'italiano, sono un po' storto. Poi che minchia c'è oltre lui? Fammi vedere, fammi vedere. Ebbè, ebbè, come può mancare lui? Giusto, lui si distingue, ragazzi, lui è una scimmia speciale. Di mappa direi questa. Bella notte. Ragazzi, 1v5 Girbai contro 5 scimmioni giganti. La vedo dura, ma vi farò vedere che è il personaggio più potente che esista. Nulla può scappare dinanzi a Girbai. Mi scappavo uno stranuto. No, non vale. Ma, tipo, non lo sto... Ok. Allora, è molto interessante il fatto che io... Che loro non percepiscano i miei attacchi. Preso. I got it. Vai Girbai. Vai. Uh. Eh, vabbè, pure. No. Eh, niente. No, non m'ha preso in pieno, opposto. Ma, ma, ma ha slisciato. Uh, attenzione, nella schiena. Attenzione. Madonna. Nulla potete. Anche se la vostra difficoltà, se la difficoltà del gioco è al massimo, non mi fate nulla. Uh, preso. Attenzione, si è sdraiato. Cos'è, un pisolino? Mamma mia, mamma mia. Ehm, ma sei fortissimo, cazzo. Ma, what the fuck? Vai, fa' il culo! Ehm. Ragazzi, partita ricca di colpi di scena. Ah, io non lo scappisco, proprio non sente i miei attacchi. Eh, vabbè, Cristo santo. Non vale, l'ho stunnato. Eh, vabbè. Oh, attenzione! Colpo di scena. Eh, giurbai, cazzo, però, anche te. Datti una svegliata. Niente. Eh, vabbè, però, se io lo attacco e lui non si muove, ovvio che mi fa sempre la presa. Oh, la presa te la fò io. Ah, sì? Ah, sì? Ah! Credi! Niente, no, me l'ha missata. Eh, vabbè, non vale, cazzo. Ma come ha fatto a missarmelo così in fretta? Oh, guarda che non se l'aspettava. Non se l'aspettava. Ah, va a tenere. Uh, attenzione. È un po', è un po' confuso. Cerca di scappare dallo zoo. Oh, ma... Oh, ma hai rotto il cazzo! Madonna, mo ti rimpi di botte. Mangia, mangia il fagiolo, vai! Cazzo! No, si vuole caricare... Cazzo. Potrebbe essere un problema. No! Doge... Oh, ok, ok, ha parato, ha parato. Va bene, lo stesso. Ma, Gerobai, non attacca... Oh! Ma cosa succede? Oh, no! Eh, vabbè. Che fatica! Ah! Prendi! Eh, vabbè, però, che cazzo, le missan tutte. C'è che è difficoltà massima, però, oddio, santo, ecco. Eh, vai. Oh, attenzione! Che cazzo è successo? Ma what the fuck? Madonna! Minchia, mi... Ragazzi, mi fa male la mano, porca puttana! Neanche Sasha Gray ti fa venire... Ti fa... Insomma, avete capito? Sono troppo concentrato per fare battute di merda! Vattene! No! Cazzo. Oh, attenzione! Niente! No! Eh, vabbè, questa, ragazzi, è indoggiabile. Cioè, mi ha davanti mezzo centimetro. Prendi! Oh, attenzione! Eh, vabbè. Eh, ma allora... Vuoi fare un'altra volta? Eh, Cristo. Oh, aspettiamo la sua... Eh, niente. Ancora! Oh, ma... Cristo lo sa... Prendi... Eh, niente. Ragazzi... Minchia, sto sudando male. Sto sudando male. Vi giuro che non sono mai stato così concentrato in tutta la mia vita. Dai! Erotico... Mamma mia, attenzione! 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 Ah! Oh! Madonna! Questo l'ha sentito. Mamma mia! Nella schiena! Eh, preso... Eh, stavolta non me l'hai doggiato, mi sa... Attenzione, c'è quello grosso. Quello giallino. Oh, attenzione! Rilancia nella schiena. No, no! Eh, vabbè, Cristo. Ho avuto manco il tempo di doggiare. Oh, ma hai rotto... Eh, eh! Prendi! Ah, sì? Tieni! Para questo! Eh, vabbè, allora, affanculo! Ah! Mamma mia! Preso in pieno con tutto! Benissimo! Attenzione! Aspetta, ma se io mi arrivo alla massima potenza... Oh, questo non me lo podo già! Sa che la sua onda energetica me l'ha parato. Probabile. Ho avuto il cazzo. Ah, sì? Vediamo un po' chi è più alla massima potenza! Prendi! Eh, vabbè. Cristo. Se non muoio adesso, ragazzi, posso anche pregare il rumore. Oh! Niente. L'hai pensato peggio? Eh, ma... Oh, ma mi lasci inalzare! Ma what the fuck? Eh, vabbè, ma... È un po' bagato, eh. Ragazzi, c'ho la mano che mi sta andando a fuoco. E non fate doppi sensi. Basta, basta. È la volta buona, questa. Ah, sì? Vuoi fare di nuova gara? Oh, li senti i miei attacchi adesso? Eh? Li senti? Eh, vaffanculo. Anch'io li sento i tuoi. Oh, guarda come li senti i miei attacchi. Guarda... Oh, ma... Cristo. Proprio... Come potete capire, la difficoltà massima è massima e quindi non è minima, insomma. Massimo, cioè, te l'ho detto io. Oh! Vai! Vai! Eh, niente. Ma parmi questo! Oh! Ah, sì? Ah, sì? Eh, eh, sì. Effettivamente, eh, sì. E non è, no, è sì. Eh, sì, ma... Ti li ridai il ca... Ma non li vedo neanche i suoi pugni. Come fa a colpirli? Oh, questa... Questo! Nella schiena! Niente, niente. Doggiano qualsiasi cosa a difficoltà massima. Non ne vale una pena neanche tirarli. Allora, vediamo un po' che cazzo ha fatto. Ah, proprio quello. Fanno. Uh! Oh! Vai! Oh, non me l'ha doggiata! Cazzo, cazzo, cazzo. Che male, che male, che male! Vabbè, ragazzi, ma... Diciamo che è un po' difficile. Effettivamente è un po' difficile questa cosa. Non provateci a casa. Provateci a casa di qualcun altro. Oh, che cazzo! No! No! Ma come? Ma come? Ma preso... Oddio, ragazzi, l'ho preso di striscio. Che culo! Che culo, ma tolto soltanto mille... Quella lì mi one-shotava in un colpo. Assolutamente. Oh, attenzione! Attenz... Oh! No! Eh, niente. Proprio in faccia. Proprio nel naso. Vì! Eh... Prendi! Oh, tuo padre fa il panettiero, Dio santo. Datene via! No! Dovevo... Dovevo allontanarlo, non avvicinarmi. Come faccio a mangiare... Cazzo. No! No! Non è questo che devo fare... Che mica ho fatto? Vabbè. Vieni. Per regalo. Niente. Non l'ho accettato. Può... Pezza! Oh, attenzione! La coltellata! No, cazzo. Però... Dio santo. C'è un piccolo problema. Non ho molta vita perché ho sbagliato prima a fare la mossa. Eh, non mi tirare i sassi, cazzo. Non siamo al fiume. Oh, bene. Bene, bene, bene. Allora... Oh, ma... Recidivo, eh, ragazzo. Ehi, ma cosa vuoi fare? Prendi! Cioè... No, dai! Ma sono lentissimo a caricarmi! Come faccio? Cristo. Eh, sì. No, ma non puoi prendermi... No, cazzo. È questa la fine di Jirabai, ragazzi? Non ditemelo! No! Io combatterò fino alla fine! Mangia il fagiolo! Cazzo. Abbiamo un attimo di respiro, però... Ci ricarichiamo lentamente. La cosa non mi va molto a genio. Per quanto dura sto cazzo di debuff? Cristo. Oh, vattene. Te ne vai! Madonna santa, ma... Sì, vabbè, ma se allenti come la merda... Dio che hai visto... Fia! Oh, niente. Dodge. Eh, vabbè, ragazzi. Ma io sono troppo lento a caricarmi. Uh! Attenzione! Dai, cazzo. Mi ricordo, se mi carico tutto... Riesco a togliere il debuff. Eh, però non ce lo farò mai. Eh, sì. Cristo santo! Cazzo è sta merda? No, non mi prende... Eh, vabbè, ma... Ma come? Ma... Mi hai impassato davanti. Non so che cazzo abbia fatto, ma so che non... Oh, sì! Abbiamo torto il debuff, ragazzi! Ora ce l'ha lui il debuff! Ora ce l'ha lui! Eh! Cosa facciamo adesso? Prendi! Prendi! Eh, cosa fai adesso, eh? Non fai più niente? Non fai più niente? Dio Cristo. Che cazzo sei? Ah, prendi! Madonna, nei coglioni gliel'ho tirato! Oh, attenzione! Niente! Oh, la via! Sì, vabbè, c'è il muro davanti proprio! Non facciamo più la merdata di prima, che se no mai arriva il debuff e mi carico domani. Chi è? Nappa, questo, mi sa. Oh! Il muoretto che mi salva la vita dalla pietra! Ah, te non hai capito proprio niente. Vai! Uno v uno! Oh, attenzione! Tagli in due la pietra! Eh, questo ragazzi lo sapevo, Giroby è molto, molto più forte. Vai, caricati, caricati! Addosso! Niente, me l'ha parato in qualche modo. Basta! Eh, eh, eh che è il più forte adesso? Eh, eh che è il più forte? Ti diverti, ti diverti! Prendi questo! No, no, doggia! Per cazzo! Non ha doggiato. Tieni, te lo regalo! Ma com'è? È sparito nel nulla. Vai, vai, vai! Oh! Oh, attenzione! Ma perché? Ma perché? Scappa, scappa! Scappa con le ciabatte che ti ritrovi! Vai! Via, via! Non capisco se è buggato! O è fatto così davvero? Penso che sia fatto... Oh, ma non hai ancora capito che è il più forte qua? Prendi! Si suda, ragazzi! Tu non mi devi rompere il ca... Non mi... Tieni! Oh, ma allora... Ragazzi, recidivo! Non capisce chi è il più forte! Lasciami caricare in pace! Non mi lascia caricare in pace! Eh, volevi! Ma... Oh, ma Cristo! Non mi faccio prendere a te! Lo vuoi capire o no? Prendi questo! Prendi questo! Niente! Oh, attenzione! La doja! Ah! Ah! Vai! Vai, Shirobhai! Mamma mia! Ragazzi, ma quanto so... Prendi! Pfff! Troppo... Troppo devastante sto personaggio! Non c'è niente da fare! E poi ringrazi... E poi ringraziate che non posso nemmeno farvi le altre mosse perché non posso farle, sembro la vostra, diciamo, stazza? Niente, anche lui... Anche Nappa ci saluta! Vediamo chi c'è! Bardak! Sei tornato! Oh! Volevi! Niente! Guarda come gliela doja! Vai via! Troppo potente ragazzi, sto girobike! Troppo potente! Ah sì? Ah sì? Vuoi vedere chi ha l'energia più grande? Cazzo! Mi sa, mi sa... Lui! Oh! Attenzione! Non mi ha preso! Prendi questo! Doggamelo! Pronto! Prendi! Attenzione! Inarrestabile! Oh! Volevi! Volevi! Eh! Volevi! Ti sarebbe piaciuto, eh! Guardalo! Guardalo! Que che fascia! Guarda che fascia! Con la coda trapiantata nella scarpa! Chi è questo pure? Ah! È Tarles, mi sa! Turles, Tarles! Come cazzo si chiama? Ragazzi, molti personaggi non mi ricordo nemmeno! Ah no! È Radish! Ma che cazzo dico anch'io? È Radish questo! Via! No, è Radish! Non capisco sinceramente! Attenzione! Super concentrato! Di pomodoro! Guardalo, guardalo che... Guarda che... Amico, sei rimasto da solo! Ma cosa credi di fare? Guarda, guarda, non si arrende, non si arrende! Guarda, oh! Ti piace, eh! Ti stai divertendo! Ed è così che finì la partita! Girobai vince! 1 V5 contro le sci... Guardate, guardate che fierezza! Ballotelli proprio! Ballotelli! È uguale, cazzo! Joystick della PS3 che mi ha accompagnato per ben quasi sette anni! Ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto! Spero che vi abbia fatto tornare in mente qualche ricordo! Perché è stato uno dei miei giochi preferiti di infanzia, questo, minchia! Mi ricordo, comprata la PS2, appena uscito Tenkaichi 2, comprato! Perché io, da piccolo, ovviamente, ero un fan di Dragon Ball, come penso quasi tutti voi! Perché, se non siete stati fan di Dragon Ball, siete delle persone molto, molto tristi! Ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto! Lasciate like, eccetera, eccetera! Noi ci vediamo al prossimo video! Bella!